Se mi dovete rispondere, vi dovete dire EIA ragazzi, va tutto bene? Io ho sentito, però Pablo Leoni che suona la batteria non sente molto bene, quindi riproviamo, tutto bene ragazzi? Questo brano si chiama Uxin My Skin, volevamo dedicarlo a Roberto e a tutto lo staff di Ameno Blues e anche ai tecnici ragazzi che ci danno una mano gigantissima che solo noi possiamo capire qua ragazzi Fategli un applauso Blues Grazie 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 a tutti Grazie mille Grazie a tutti